ok vediamo un po' se siamo online su twitch e su youtube tra l'altro buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutti perché fai gli screenshot e ancora devo capire perché fai gli screenshot cazzo ho scritto malevil dead su youtube vabbè sti cazzi dopo modificano vado che cazzo fa buon pomeriggio ragazzi buon pomeriggio a tutti come state? spero bene mi vedete un po' giallino però è per via della luce perché potrei pure cambiarla però vedete la luce bianca mi dà un po' fastidio quindi metto quell'arancione metto l'arancione perché la lettura per lo schermo così non mi dà fastidio gli occhi allora come state? tutto bene? tutto a posto? io sto bene sto alla grande oggi non volevo fare la live però alla fine l'ho fatta perché mi annoiavo e invece di portare i podcast che lo porterò domani volevo giocare a fortnite si sta cracchiando il microfono aspetta eh mi senti? prova prova ok stavo cracchiando il microfono quanto è buona l'acqua è buonissima allora sento tutto non sento niente ok allora cambiamo ok ho messo la chat tutto tutto a posto tutto a posto ma che cazzo è questo? ah questa è una cosa ma cancelliamolo non serve a niente ok posso sento tutto sento tutto sento tutto a posto allora oggi portnite e devil dead oggi facciamo fortnite e devil dead allora prendiamo il joystick fortnite ieri ho shoppato ho shoppato un po' intanto se mi si sente col microfono yes prova one two three one two three one two three yes che te però prima dovevo fare una cosa che non ho fatto ho fatto un errore non l'ho fatto perché sono una presumibilmente sono una testa di cazzo ma lo facciamo aspetta eh eh ah non c'erano niente perfetto va bene così perfetto nooo come è arrivato a noi nooo come è arrivato a noi nooo vabbè meglio se c'era Kratos tra l'altro 1500 no se era Kratos e mi incazzavo perché allora mo vi spiego che cosa ho comprato ieri prima di tutto ho comprato questo dove sta ah sta vabbè ho comprato il pass però quello là della questa qua dove sta ecco ho preso questo così da credo domani no non domani domani in teoria dovevo avere pass battaglia gratuito sì l'8 marzo quindi in teoria e poi mi sono comprato aspetta no ho sbagliato capitano America con lo scudo perché io pensavo che lo scudo si poteva usare come piccone però che lo lanciava invece no sono rimasto perculato non ho neanche allora tanto mi metto perché neanche posso vedi non posso neanche non ce l'ho ah questo dopo gli ultimi 30 giorni quindi alla fine perché se facevo 2000 molto probabilmente mi riprendevo aloi però non c'ho eh 12 puttana le vostre zie però va bene chissà chissà allora si sente tutto microfono a posto tutto mi dovete convincere a giocare a a della sdovassa in multiplayer signor smusi buon pomeriggio anche a lei caro mio buon pomeriggio allora se no ma che salva in mondo aspetta vediamo se in salva in mondo ho dei V-Bucks da riscattare mi hanno dato delle skin e va bene però sono delle skin di merda quindi alla fine se alla fine sono skin di merda no abbandoniamo 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 vai allora abbiamo delle cose da fare qui no allora noi in teoria giocare a fortnite sarebbe inutile però aumentiamoci il livello perché voglio le skin tipo questa non ci arriverò mai entro oggi non ce la farò mai però tipo prendere già questa oppure questa mi piacerebbe eliminerò avversaramente se in sella cazzo non sarà proprio facile facile però no voglio provare con zero costruzioni vai finalmente ragazzi è da tanto che non portavo The Last of Us vedete è da tanto che non portavo Fortnite più che altro vabbè siamo qui oggi quindi in teoria abbiamo non abbiamo un nuovo emote l'avevo comprata dove sta non credo fosse questa si muovo a trovare eccola vabbè intanto abbiamo i soldi per il pass di domani quindi in teoria allora spero che state tutti bene allora l'ho già detto ieri in live e lo ripeterò oggi non ci sarà una collaborazione con Giuseppe Simone perché mi ha trattato in un modo maledettamente maleducato rifiutandomi di scrivermi addirittura bloccandomi gli avevo proposto delle come si suol dire offerte ma a quanto pare non è riuscito non sono riuscito a persuaderlo più che altro non ce l'ho fatta quindi alla fine quel che sarà sempre questo è copyright pezzo di merda mi vediamo se riesco a trovare quell'altro non fai la morte insieme a me pezzo di merda niente siamo pronti la fine di fortnite è vicina ragazzuoli molto più vicina di quanto pensassimo ma è vero che qua no ragazzi non mi avete fatto tuffare però ah no giusto giusto ci sono gli altri due perfetto il giallo non c'è siamo in tre perfetto allora siamo in troppi ma proprio troppi 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 stai attento compare ah picchi vulla no 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 dai non un'arma chi è pezzo di merda andiamo a me questo qua non lo sai usare ma tutti se ne sono andati aspetta devo essere concentrato non posso distrarmi buona la pistola vieni qua vieni ragazzi se sapete sapete le spuglie prendetelo abbiamo delle armi di merda e tu e tu che fai dai dai ragazzi ma quelli ma quelli altri due che cazzo dai un bot mi ha ucciso un bot di merda dai iniziamo alla grande proprio ok abbiamo scureggiato e credo che sia la cosa più soddisfacente di tutta la giornata ragazzi domani nel come si chiama nel podcast sarà un argomento molto particolare molto particolare mi butto nel vuoto no 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 dai ti prego dimmi che ce l'hai niente dove atterriamo siamo ancora in tre perfetto stanno seguendo me seguiranno me quindi sarò io il leader loro ok ho fatto un errore col microcono di qua ragazzi di qua di qua ragazzi meglio di qua fidatevi meglio di qua di qua eh vabbè qui c'è qualcuno tutti qui tutti eh vabbè ragazzi ragazzi no ragazzi porca porca madonna ragazzi però cioè non riesco a ucciderlo uno non ce la faccio non ce la faccio però no lo è ma dai però sono sempre tre sempre tre siamo sempre tre ma come ma perché non capisco boh non ho capito perché non ho capito perché dio bestia non ho capito 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 non hanno ancora no perché sì i giorni dovevano annunciare il new game plus di no ma secondo me ancora no sei un figlio di puttana sei contento di spararmi non ti preoccupare ok siamo in 4 adesso tanto sono sicuro che al 100% uno di lui abbandonerà e riuscirà a rimanere nella mea ok tutti sono scesi scendiamo pure noi quanto ci scommettete che in realtà ma che cazzo è quel fascio rosso ah già non sto seguendo più la timeline di fortnite ormai non la sto seguendo più mi sto rompendo il coglione senti dio ok almeno un'arma ce l'abbiamo cazzata allora io ho visto che c'era una macchina qui aia ok grazie compa va via via vai questo mi serve a me però chi è che ha abbandonato la partita? no nessuno ma ci diamo la taglia comunque mi sono cagato su a te ma c'era un altro di questi con ma è indifferente ma non l'essa mi serve che arma è? quante ne ho presa sono un cretino sono veramente un cretino non volevo fare così ragazzi se li volete stanno qui tu dici vabbè dammi un secondo copritemi ok cazzo ok no ti vedete cazzo non ho capito cazzo cazzo non ce l'ho l'abilità è vero ma se in teoria dico in teoria nessuno l'ha aperto vuol dire che stiamo andando noi ad aprirlo eh ho paura la voglio io sì sì vai via perché no si sente il cane che appaia il figlio di puttana che si sente cane di merda fa mica valcare fa mica valcare sì questo mi serve bellissimo così almeno posso mettermi in salto sì piatto voglio fare il cazzo che volete wow ricordiamo che ci abbiamo tre di questi e non dobbiamo sprecarli siamo messi bene ok pensavo di aver visto qualcuno invece no c'è una pistola c'è una pistola questo è quello che succede quando qualcuno mi rompe il cazzo caccia di frodo no mi risso oh e ciccio no ma vabbè più cool world la gente che spara perfetto andiamo ma davvero cazzo e tu e tu che fai ma mi fai vengo io col pompa dietro sei tu quello famoso coloro qui no non mi dico abbandonato no non abbandonato no aspetta intanto certo vai vai entra entra qualcuno ha sparato siamo in quattro ancora ragazzi non demordiamo non molliamo quanto siamo di live mezz'ora e mi faccia giusto giusto dove l'ospedino non ha importanza l'ho mandato ah ok 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 ho lì a posto giusto così comunque e raga utilizziamo il rift eccolo ti rego mi viene andato preso preso dove sei è di lei che cazzo dio sta lì eh sta lì guarda si sta pure a cura no tu non te ne andrai così lontano ma che ma sei un coglione boh adesso tutto mi viene di compri di prend eh dammi questo ma metto qui nessuno mi vede eccolo vai e tu chi sei e i clacson che suonano dai vai vai dai raga però non muore dio porco i clacson del porco dio i cani che abbaiano che hanno il cazzo nel culo un po' basta di partire sto facendo dai su figa dai figa su figa u qua Grazie a tutti Grazie a tutti Ma sai che questo fucile Non è niente male Dalla distanza Non è niente male Alcune volte ci beccano Altre no Però non è niente male Qualcuno abbandonerà secondo me Ho questa impressione E' un po' dalla distanza qui No Non è vero I tacchi delle signore Delle donne Che lavoro avranno fatto Se indossano dei tacchi così pesanti E' brutto il naso Dai andiamo dove l'ha detto lui Dai Vabbè qua dai Ecco Questo muore eh Questo rosa Il rosa muore Ok sta venendo con noi Quindi non muore In teoria Tutti qui E' finita E' finita E' finita Ragazzi Eh No 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 Cazzo Dammi questo Dammi questo E' finita E' finita E' finita Eh le 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 Oddio Però ok Cioè alla fine Ci siamo Perché mi devono recapitare sempre le pipa a me Perché Eh E' finita E' finita E' finita Ma non dicono Che se c'è un evento Qualcosa al riguardo Per la stagione 2 No Un trailerino Qualcosa Siamo in 2 E' finita E' finita E' finita Ma tu te Che copi E' finita E' finita E' finita E' finita E' finita Allora Allora Questo è un punto molto particolare Perché 1 Non ci sono mai stato 2 2 Posso Deturre Ecco Già il primo stronzo Qua Quanti Ma quanti Ragazzi Ma questo c'è la stessa cosa No Vedi Mi stai troppo attaccato al culo E io vado dal blu Venite sotto Bastardi Non ti faccio prendere nessun'arma E' chiaro Questo è molto Ho sbagliato Ho sbagliato Errore mio Errore mio Se mi colpi Tutto di merda Grazie Un pa Grazie Grazie Cioè Avete capito Che ha fatto Quel pezzo di merda Mi ha seguito Però io sono stato Molto bravo Sono stato Moltissimo Bravo No Sta pistola Non va bene Quanto a cucina Questo è molto meglio Per esempio Io odio che la gente Che parla Mentre sto lavorando Ti giuro Mi da un urto Mi da un urto Del dio Questo che non si può costruire Questo che non si può costruire Che ci fa Che ci fa un eco Della madonna Del dio Bestia Davvero Fuori alle scale Mi pare Troppo esagerato No Che dite Sì Sto facendo solo Fortnite Però non vi preoccupate Ragazzi Giocheremo pure I build dead Dammi questa Mi servirebbe questa Ecco Questa si Perché no Per dire Non giusto No No Via 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 Perché non Via Cazzo Di oro Fuori Scorto Perfetto No No Manolesta Sempre lei Manolesta No Prevesco Bampa Ma dove sono andati tutti E mi hanno scelto Solo così C'è La merda Chi è? Come ci penso io a questo stronzo Dov'è? Dov'è? Olè Ah Coglione La prossima volta Impara a giocare Porca puttana Siamo pazzi? Siamo pazzi? Via 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 Corri 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 Sta sopra Sta sopra No Dov'è prendere i ragazzi Cosa? Coglione Imparo a giocare Cosa? Viva Via 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 No 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 Non hai capito un cazzo Nella vita Via Battene 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 Io me ne vado No 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 Chi sia la piassa La responsabilità No no Fratello tu stai messo male Quindi Cazzo 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 Impara a giocare Dai Impara a giocare Su Ti cazzo Ti caghi sotto Cazzo 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 No Quell'altro Dai ragazzi Su Dai Bratello Devi venire Una vittoria Azzeccata Una vittoria Neanche Non basta Mi hai rotto Basta Mi hai rotto il coglione Ma domani Quando c'è la giornata La seconda stagione La facciamo Evil Dead Evil Dead Mo Lo impara pure i tasti Dove impara pure i tasti Lui però Evil Dead è un gioco sottovalutato Ma Besantemente Io ci sto giocando ogni giorno Mi sto aumentando pure di livello Perché trova porca Sei porca Trova poche persone Gioca Ecco Mi piace Sempre giocare Come in male Alcune volte Perdo però Tipo tra 5 secondi Precisi Troveremo una partita 5 4 3 2 1 Adesso Sarebbe stato un bel timing Però Se non metto Troppo alto il volume Adesso Adesso va bene Ok Posso Oggi ho vinto 30 euro Alle macchinette Necromante Tutta la vita E' una partita Può durare pure mezz'ora Questa Ovviamente Se vinco Dura poco Però spero di vincere Almeno I soprofessori Che vagano Da solito Vedrò cercare Di rimanere Nascosti Per evitare Di venire Trovati Dai nemici Ma guarda Che so carico Oggi Sono Cheriche Cheriche Dai 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 Figa Dai Figa Quanto spero che stanno partendo Cazzo Ecco che cosa non ho fatto Ho detto Vedi qualcosa manca Qualcosa manca Sì Fai partire la cazzina Un attimo Ma no Sta facendo le pubblicità Buono Buono Allora Assorbi Assorbi Vai Vai Siamo nel deserto Quindi Is good Come nel film Ma poi guarda qua Già hanno trovato Un pezzo Della mappa Ma non è che Sono incompetente E' in teoria Che Facciamo così Piazziamo Qualche Trappola in giro Possibile Una trappola No perché Veramente Allora Tra l'altro Fa veramente Vomitare Il cazzo Ok Poteri demoniaci Sì ho capito Compa Dove stanno L'altri Io vi giuro Che il primo Che trovo Li faccio un culo Quanto una casa Ma non li sto trovando Dove cazzo sono Stanno qui Dai No però No però Non si fanno trovare Veramente Aspetta No voglio la trappola La trappola Perché un pezzo Un pezzo di mappa Qui giusto Sì Mini hash Più piazzo trappola Meglio è Giusto Pure qui Vai vai Da per tutto Vai 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 Sì è un po' lentino All'inizio Poi raga Va a finire Che se i sopravvissuti Se la giocano bene Sono cazzi nostri Portale base Eccolo qua A 125 Trappola proprio qui Qui Sì Qui Perfetto Andiamoci a ricaricare Intanto questo pezzo di mappa Non lo prenderanno Perché gli farò Male Ma pure qui va Metto una trappola Qua Perché no Aumentiamo L'energia infernale Così Siamo più che bene Allora Non voglio andare Subere le sopravvissuti Perché È inutile A questo punto Preferisco Farli ralentare Un po' L'ho visto L'ho visto Eccolo E questo è già il primo Preso Ok si stanno avvicinando tutti Vai Dov'è con l'altra Maledizione Se prendi l'altro pezzo Della mappa Vieni Riprendi vai vai No no Dive andare dall'altra parte Ci farò Dove credi di andare E vieni qua Pezza di merda Eh Come ti senti adesso Poteri demoniaci Andiamoci a ricaricare Vai Trappola qui Bellissimi Facciamoli cagare sotto Va Ma sono tutti e quattro Vai Petta di merda Lascia voi Bella Non si è attivata La trappola Come cazzo è possibile Ecco Vedi 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 Psh Un roppo forte Trappole, trappole Energy in fernia No, è il posto Hanno già attivato come trappola E tu dove credi di andare? No, no Lezzino Bastardo, non si è attivato Preciso Bloccato, pezzo di merda Noi Troppo easy Senti, tu vieni qua con me, per favore No, cazzo Ho sbagliato qui Più le faccio venire paura Meglio è, meglio è Non avete capito Però, questa la potrei perdere, ragazzi Madonna Madonna Pezzo è bene Madonna, ti posseggo No, no, no Lezzo, lezzo No, niente Abbandonate la partita L'ha abbandonata Abbandonata la partita Niente Purtroppo non si è attivata la partita Eh, troppo Poteri demoniaci Mi piace Mi piace No Ho sbagliato Fa un po' vomitare Questo cosa Yes Senti, mi è qua tu Mi servi Bravissimo Sono veramente un genio del male Eh, non mi sono trasformato neanche mezza volta E a questo lo devo far fuori No, è inutile che ti curi Ti ho bloccato Lezzo Terrorizzatissimo No Questo coglione muore Che cerchi? Cosa cerchi? Trappole vai Vieni, vieni, non ti ho messo niente Giuro Stanno mettendo il pugnale E questo non va bene Che che ha messo il pugnale Ah, e no E tu mi sa che ci muori un po' Giriti Non ce l'ho fatto No, per esempio questo mi sta su cazzo Non ce l'ho fatto Un po' parato Io te faccio morire Basta, hai rotto i coglioni Vai, preso Non è È inutile È inutile È inutile Cazzo Ma fammi andare verso la pagina Ma Ok, perché Che trema è così? Allora Uno di qua E uno di qua No, sta tremando Non so perché trema It's a simple Non so perché Non so perché Hanno rotto i coglioni Questi qua Madonna Santa Oh Oh Non ho preso nessuno Davvero Non ho preso veramente nessuno No ho preso nessuno No ho preso nessuno Non ho preso nessuno Non ho preso nessuno Grazie a tutti. Mi sono mutato pure il microfono. Dai, ma guardate che roba. Niente. Dai, ma che cazzo significa? Sono potenziati come una merda, questi stronzi. Senti, se io lo metto qui, non posso metterlo, ma se lo metto qui... E i pezzi di merda sono... Ecco, vedi? Mi stanno aiutando ad attivare le trappole. Grazie. Si sta andando a cappottare pure quell'altro. Contro chi cazzo sto giocando? No, vabbè, mi sono bloccato pure. Dio, bestia. No, 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 hai rotto i coglioni. Madonna. Vai, avvicinatevi. Non mi paro a toccare ne... No, 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 no. Pezzo di merda. Come che cazzo vai, tu? Eh? Sì. Sì. Mi metto tutta da parte, ma proprio mi metto qui. Vai. Vai, 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 vai. Non mi è capito proprio un cazzo, vedi? Non mi è capito proprio un cazzo, vedi? Ho vinto. Questo è vinto, ragazzi. Dove volete riandare? Qui devi stare. Qui. Guarda, l'ho tutto fatto pure baggato. Stai, è buono, stai. Dove vai? Non ce la fai. Teh, suuuka. Suuka, Gita è morta. Ah. Una l'abbiamo vinta, una. Dio, santissimo. E ce l'abbiamo fatta. Panculo. Tocchiamo i coglioni. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Ah. Vedete? Ragazzi. E questo è. Questo. Allora, demoni. Eh, necromante. Allora. Eh. Sì. Ok. Abbiamo tre punti abilità. Io direi di... Ok. Sì. Vai. Allora aspetta Allora questo rimuovo E metto qui Ah non posso Eh non posso no Se mo No niente dovevo mettere per forza questo E a questo punto Salva le modifiche Allora Ragazzuoli io vi ringrazio per aver visto Questa live ci vediamo domani Per i Kingscorp Podcast Bisogno numero 6 L'altra volta mi sono sbagliato Non era vero Vi ricordo di seguirmi su Instagram Su Youtube, su Twitch e su TikTok Come Kingscorp77 Mi raccomando ragazzi supportatemi Alla grande Noi ci vediamo domani per i Kingscorp Podcast Ciao a tutti ragazzi